Anche a Deboli fa tappa la principale manifestazione italiana dedicata a Linux, al software libero, alla cultura aperta, alla condivisione. L'evento, nel suo maxi contenitore, si compone di decine di eventi in tutta Italia, centinaia di volontari coinvolti e migliaia di visitatori per celebrare insieme la libertà digitale. Viviamo nell'epoca d'oro della tecnologia, dicono gli organizzatori dell'evento. Sono tantissimi i campi nei quali si gioca il progresso dell'umanità, dalla privacy all'intelligenza artificiale. È necessario dominare questi temi sia dal punto di vista tecnico che metodologico. Ad Eboli l'evento è stato ospitato da Bix Incubator. Si tratta della prima volta che questo tipo di evento viene organizzato nella città di Eboli e rappresenta il preludio di ulteriori sviluppi su questo tema molto attuale e delicato.